Buongiorno, sono Gabriele Piani della Durdental, io sono lo specialista delle immagini digitali. Vi voglio mostrare adesso quelle che sono le funzioni di intelligenza artificiale che sono state inserite nel nostro software e che agevolano la vita del medico quando utilizza la macchina. Una prima cosa è l'individuazione automatica del nervo mandibolare. La macchina ha un sistema di intelligenza artificiale con la quale viene automaticamente individuato l'alveo del nervo mandibolare per cui dopo una breve fase di riconoscimento anatomico voi potete trovare il nervo automaticamente disegnato senza che lo debba fare il professionista. Qui in trasparenza possiamo vedere per l'appunto che i due nervi mandibolari sono stati individuati dal software e disegnati. Un altro aspetto molto importante è sul riconoscimento delle arcate del paziente perché normalmente le TAC, come forse sapete, individuano una curva panoramica generica che non molto spesso è di buona qualità mentre invece il nostro software, sempre grazie all'intelligenza artificiale, è in condizione di poter riconoscere le due arcate mandibolari, superiore e inferiore, come sta facendo ora e produrre un'immagine che è decisamente molto più leggibile per il medico che può dedicarsi direttamente ad andare a fare della diagnosi anziché perdere del tempo cercando un'immagine panoramica ricostruita migliore di questa. Un'altra funzione molto utile è la tracciatura automatica su una cefalometria. Noi qui abbiamo la possibilità di scegliere la scuola di tracciatura che vogliamo utilizzare. In questo caso possiamo utilizzare McNamara, Steiner in questo frangente. Diamo l'ok. Il software posiziona un tracciato generico sull'immagine. Dopodiché c'è questa funzione, sempre dedicata all'intelligenza artificiale, che fa un riconoscimento anatomico dell'immagine e va a spostare i punti nella loro posizione corretta, che è l'attività che dovrebbe fare il medico al quale non è più richiesta. Il che significa che molti minuti di tempo sono risparmiati per questo tipo di attività. Qui vedete che c'è il tracciato definitivo e già con le misure, gli angoli, può essere stampato e utilizzato per la diagnostica.